Non può entrare, entra, non penso proprio Non penso proprio che oggi perderò Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo fantastico video Se mi vedete un pochettino giù è perché ho l'influenza Infatti Bella Faccia sta male, ma solamente per voi è qui a registrare Quindi me lo dovete, lasciate un bel mi piace a questo video Perché hanno aggiunto un sacco di cose incredibili su StumbleGuys Allora, come potete vedere, nello sfondo ci sono già gli alberi di Natale Sì ragazzi, ma quanto è bello Natale Ci sono i regali, il panettone, il pandoro, i regali, la famiglia, i regali È bellissimo Allora, avevamo completato tutto lo StumblePass Ma adesso andiamo nel negozio Perché finalmente, guardate quante cose che ci sono Bastoncino di zucchero Possibilità 100% di riuscita Ok, ruota sushi Non si sa che cosa c'entri col Natale, però va bene E la cassa premium natalizia Ovviamente servono i bastoncini Che noi non abbiamo Però potremmo sciopparli gratis, ok 20 bastoncini di Natale Intanto li abbiamo Allora, bellissimo Il pupassetto qua La skin con il biscotto di Natale Molto bella C'è Patrick Stella ragazzi C'è questo il fratello gemello di Patrick Dai, dite quello che volete Ma è proprio lui, eh Non mi sembra che abbiano aggiunto tantissime cose La bandiera del Messico Oh, se c'è la bandiera dell'Italia Ovviamente non c'è Perché c'è quella del Mess... Ma mettetemi... Mettetemi quella dell'Italia Ok ragazzi Bisogna fare l'evento Non cadere Per ottenere i bastoncini di Natale Anche Ghiaccio Baby Ho paura Comunque a breve Farò un annuncio Su una sorpresa incredibile Nessuno può indovinare Vediamo se indovinate qua sotto Ma nessuno può indovinare ragazzi C'è una cosa Basta, non dico nulla Magari pian piano dirò Però adesso giochiamo Ok Vediamo un pochettino Tile Fall Che era tantissimo Che non veniva questa mappa Ok Poi con la mia nuova skin Della televisione C'è wow Tanta roba eh Ok Spongy Vai avanti Bravo Ok qua è meglio diventare una palla eh Ok Proviamo a fare la mossa Mamma mia Tanta roba Spatoliamo Spatoliamo C'è mi ha fatto cascare di sotto Ma che maledetti Sono dei maledetti raga No Non andate Non andate oltre Ok Trasformazione in palla Bella faccia C'è io dico Devo rimanere calmo Perché se no mi viene la febbre A 39 C'è raga Nemmeno un bastoncino Nemmeno un bastoncino natalizio M'hanno dato Ma per fortuna c'è la ruota super fortunata gratis Che sicuramente Ci farà trovare qualcosa di No Schifoso Raga riproviamoci Comunque sia Quest'evento Si chiama non cadere Quindi ci saranno Secondo me Solamente mappe Dove non bisogna cascare E la prima ovviamente È Tile Pole Dai raga Ci siamo scaldati E comunque sia È solamente perché Sono influenzato E non riesco a giocare bene Sicuramente per quello eh Altrimenti vi faccio Oh tiro una spatolata Mamma mia Andate tutti di sotto Che veramente Come le mosche Come le mosche eh Ok Onda energetica No 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 Non un'altra volta eh Non un'altra volta Muoviti palla Almeno raga Dieci bastoncini di Natale Forza Riproviamoci Questa volta Mi sento super Ma proprio super For What? Cioè raga Cosa è successo? È esploso il gioco Eh Stamol guys Ma Ma perché Sono vivo Sono vivo Questo gioco Mi ucciderà Prima o poi Vabbè Non cadere Non si può più fare Facciamo ghiaccio baby Almeno questo andrà Voglio sperare Se raga Si è buggato tutto Se raga Non funziona Più Stamol guys Oh Si è fermato Io non posso più urlare Che mi va via la La voce Per sempre Attenzione andato Raga Giochiamo In questo nuovo evento Che mappa si sarà Vediamo un pochettino Ovviamente Ice Horizon Ho capito che ho l'influenza E magari sono un pochettino più Non so A rilento eh Però bella faccia Sarebbe anche ora Di andare Mamma mia che numero Di andare in semifinale Almeno Sai com'è Sono messo bene Sono messo bene Mamma mia Ma vedete Ma vedete l'influenza Cosa fa Vedete l'influenza Se non riesco a giocare Non riesco a giocare E non posso prendere Le skin di Natale Se raga Non posso prendere Nemmeno Attenzione Mi qualifico raga No 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 Cosa fai Cosa Ma mi prendi Io disinstallo Cioè raga Io non riesco a giocare Oh Sveglia La febbre Continua a salire Ma non mi importa Ragazzi Io proverò Ad arrivare in semifinale Mi sta sparendo Anche la voce Di nuovo Questa mappa Facciamo vedere Che anche se una persona Sta male Riesce a vincere Su stumble guys Non penso proprio Ma almeno proviamo Ad arrivare in semifinale Forza Intanto Mi fa ridere Che la mia voce Sta andando Completamente via Ragazzi Se vi immaginate Registrare Senza la voce Disastro Cioè guardate questi passi Mamma mia Dai stavolta Ce la faccio Stavolta ce la faccio Cioè ho capito Che è un evento E sono tutti try hard Però c'è Che cavolo Dai Stavolta si Stavolta si Alleluia Ok raga Sempre Questa mappa Del ghiaccio Siamo in semifinale Voglio vedere Se arrivo in finale Quanti bastoncini Mi danno eh Perché ne voglio Veramente tanti Mi servono Sì vabbè Io non riesco a pilotare Questa skin Secondo me È la skin Della televisione Che non va d'accordo Con questa mappa Raga eh Deve essere sicuramente Per quello No non è perché sto male Oppure perché sono un abbo No no Assolutamente no eh Assolutamentissimamente Mamma mia Se cascavo Tiravo le ipad per terra eh Giuro che lo facevo Ok Let's go Let's go Siamo in finale Easy Non può venire Un'altra volta Quella mappa Cioè basta eh Se non può essere un evento Solamente Con quella mappa Dai è una cosa nuova Mamma mia quanto si era veloce Mi fanno male gli occhi Oh Stumble guys Oh Stumble guys Stumble guys Raga Ice caramba Direi che in finale Si sta veramente Muy bene eh Ok Vediamo un pochettino Come se la cava Il bella fazza Malaticcio Quindi subito in palla Subito in palla Vamos Oh ma ha dato un pugno Ma ha dato un pugno Maledetta Oh Ah maledetta Se n'è solo uno Là davanti raga Se n'è solo uno Non si posso credere Se un secondo Se non è vero Raga Raga Malissimo No male 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 Eh ma ha superato Se raga non ci credo Sono secondo Non è vero Guardate Se raga roba che vinco da malato Roba che vinco da malato Ha vinto il tigrotto Che è diventato un vampiro Ok vediamo quanti bastanzini di Natale Non vedi bastanzini di Natale Missioni Vediamo un pochettino Completata Completata Se le missioni ormai non ti danno nulla Se cosa me ne faccio Di 30 stumble gettoni Ma basta Salta 50 volte Ok bevi ghiaccio 10 bastanzini di Natale Ti sei sprecato eh stumble guys Ok allora andiamo in negozio Vediamo un pochettino C'è 30 Ne ho 40 raga eh Potremmo prendere la cassa premio natalizia Però vorrei aspettare per la cra Il cracker Non riesco più a parlare C'è assurdo La cosa positiva È che dura 30 giorni Siamo già a 27 Allora giriamo la ruota bastoncino di zucchero Speriamo almeno in 20 raga dai Almeno 20 Cioè se viene 5 100 bastoncini 10 Cioè vabbè non è 5 però Potevi darmene un pochettino di più eh Allora abbiamo anche la missione raga Dove ci da 10 bastoncini E quindi arriviamo a 60 Potremmo quasi aprire la cassa premio natalizia Spesale Ma sicuramente la apriremo nel prossimo video Perché per oggi è tutto Mi vado a fare un bel tè caldo Perché sicuramente ho la febbra 40 Da me è tutto E ci vediamo In un nuovo fantastico video Ciao Ciao